Antonio Urcioli per tutti, Masto Antonio, appassionato di bici e instaccabile lavoratore, ritenuto da tanti re dello scasso per la mole di lavoro e la professionalità dell'equipe che lo assiste, da anni tiene in attività aiutato dai figli il centro di demolizione e rottamazione di veicoli. Stamane Masto Antonio ci è venuto incontro disperato, ancora sconvolto dall'inferno, scatenatosi nella notte da una vita a spesa in sacrifici, vista andare in fumo in poche ore. Preoccupato soprattutto per il futuro del deposito e del personale, circa 25 gli operai che lavorano presso la sua azienda, Masto Antonio non riesce a dare una spiegazione sull'accaduto. Si affida agli investigatori per sapere la verità sulle cause che hanno sprigionato il rogo. L'unica certezza, ripetisce la figlia di Urcioli, è che la nostra famiglia è parte lesa e che toccherà chi indaga a fare luce su un episodio inquietante. Un disastro che ha causato danni ingenti, che mette a rischio la storica attività che da anni porta avanti Masto Antonio con la collaborazione dei suoi figli. Un'apocalisse, quella vissuta ieri drammaticamente da chi si è recato sul posto, una pericolosa escalation di fiamme ed esplosioni che poteva provocare anche guai peggiori che ha cercato di intervenire nel tentativo disperato di domare le spaventose onde di fuoco che hanno raggiunto anche l'altezza di 20 metri. Scene da film horror che per ora hanno tenuto con il fiato sospeso un'intera città. Venti operai, vanno a casa, non vogliono far lavorare, vanno il capannone giusto, non si vuole lavorare, sotto qua, non si vuole lavorare, questo che hanno fatto? E licenziamo tutti quanti. Ma Sant'Oma a che ora si è verificato l'incendio? Alle 5, l'opera se ne vanno alle 5, 5 e mezza, perché vengono tardi amati, però alle 8 e mezza mio figlio stava qua, non c'era niente di fumo, niente di niente. Perciò c'è il sospetto che qualcuno ha piccato? Non si sa, di qua non si è entrato perché sta in allarme, appena entra uno qua sono in allarme, no? Di te si è andato qualcuno, non si sa. Non ci fanno passare. Quale zona è stata colpita? Quella delle macchine rottamate? Perché lei ha un capannone più... Noi prima di... cioè quando arriva la macchina qua, viene levato l'olio, benzina, tutto da sotto, no? Viene bonificata e si mette sui rastelli, là no? E là è successo, che ne sappiamo. Ma è difficile una combustione, Massantova? Ma la combustione secondo me può capitare alle 2, alle 3, quando fa caldo, penso io, poi che ne so. Ma mai subito qualche avvisaggio? No, niente, 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 mai, mai niente. Ma a Santò quanti scopi ci sono stati più o meno, mi hanno detto? Scopi ci sono stati parecchi, sì, sì. Ma il fatto è che si è batto i vuoti. Si è batto i vuoti? Eh, ma quello qua, pure quando è vuota la combustione. Ma Santò, lei in questo settore è un leader, può aver dato fastidio questa sua mole di lavoro a qualcun altro? Noi ci diamo qualche macchina al giorno. Eh, perciò dico. C'è qualcuno che aveva degli interessi a farvi fermare? Non lo so, non posso dir niente. C'è stata pure molta paura per gli abitanti della zona? È uno solo, si è lamentato, si lamenta sempre. E poi si lamenta sempre.